Artista eclettico, ma davvero, ha sempre considerato arte, musica, teatro come strumenti indispensabili non solo per comprendere il mondo, ma anche e soprattutto per rapportarsi all'alterità e a tutto ciò che ci circonda. È emigrato dall'Italia per ragioni di carriera, di crescita anche personale, ha fatto veramente i lavori più umili e più disparati ed è arrivato però a essere recensito da un grande critico, tra l'altro figlio del genio ribelle, Salvador Dalì. Se siete curiosi restate con noi qui a Spazio Scenico Sorak in TV, subito dopo la sigla. Grazie a tutti. Buongiorno e bentornati a tutti gli amici di Aracne TV. Il si parli di Spazio Scenico si apre sul protagonista di oggi, Fabio Cicala. Buongiorno. Buongiorno. E Fabio, che dire, vedere quel lungomare, quel castello, quella meravigliosa piazza che tutto il mondo ci invidia, piazza Plebiscito e sapere che quella chitarra te l'ha regalata il tuo papà, la tua prima chitarra, che eri proprio un bambino piccolo piccolo ancora. Chi eri da bambino e come ti immaginavi da adulto? Ma da bambino ero un cartone animato perché guardavo sempre cartone animati giapponesi o americani, soprattutto la MU oppure i Transformers e quindi pensavo di essere anche un cartone animato che viveva tutte queste storie. Immaginavo di fare un lavoro creativo, immaginavo di fare l'attore, il produttore, di costruire case, di costruire delle cose. Però ero un bambino quindi non sapevo bene cosa avrei fatto. E certo. Ma il tuo sogno qual era in particolare? Perché poi tu in realtà ti sei interessato un po' di tutto, la musica, il teatro, il disegno, la fotografia. Comunque il tuo modo di essere artista è veramente a tutto tondo e forse in determinati periodi ti sei soffermato più su una forma d'arte che su un'altra, ma alla fine le hai abbracciate tutte. Sì, da piccolo mi appassionavo molto di disegno perché sono stato malato, ho avuto dei problemi di salute, quindi era un modo... Ecco, tu mi hai raccontato che in ospedale disegnavi e disegnavi cartoni animati, disegnavi la MU, disegnavi lupan terzo, disegnavi Daitarn, chiaramente erano quelli diciamo i tuoi punti di riferimento iniziali. Hai capito che eri bravo a disegnare, bravissimo. Tant'è vero che ti lauri con il massimo dei voti in scenografia all'Accademia delle Belle Arti di Napoli e inizia a svolgere varie professioni in ambito artistico, quindi l'attore teatrale, hai fatto la comparsa, la statua vivente, hai fatto l'animatore nei villaggi turistici, lo scenografo nei villaggi turistici, ma anche per eventi, per palcoscenici teatrali eccetera, il fotografo, lo scrittore e guardate che questo ragazzo non si è mai dato per vinto, è arrivato, ti è capitato anche di fare l'artista di strada a Londra tra l'altro. Quanti anni avevi? Beh è stato un paio d'anni fa in realtà, perché stavo facendo altri lavori, dei lavori creativi, stavo facendo delle scenografie per un evento. uscì dall'ufficio dove stavamo preparando le cose e incontrai un artista di strada italiano al quale chiesi ma come si diventa artista di strada? Lui mi indirizzò sul sito degli artisti di strada per inviare il mio materiale per essere eventualmente considerato, dopodiché fui chiamato e mi diedero il numero di matricola per poi poter andare a fare l'artista di strada. A fare l'artista di strada e noi ne vediamo tanti anche nel nostro paese, diciamo addirittura i semafori, a volte ci sono i funamboli, i giocolieri, i mangiafuoco, insomma se ne vedono parecchi anche a Roma. Io trovo questa vocazione, questo fuoco sacro dell'arte veramente molto tenero e molto romantico, perché noi comunque viviamo in un'epoca di velocità, di chiassosità, di volgarità anche lo possiamo dire, no? Io penso sempre all'emblema del progresso che è il web e che invece poi dà sfogo diciamo agli impulsi più biechi. Invece ritrovare il bello, il bello dell'arte e anche della cultura, perché se vogliamo quello dell'artista di strada è uno dei lavori più antichi del mondo, no? È qualcosa, dare comunque, ecco, donare all'altro qualcosa di bello, di artistico, anche in una pillola. Ma come si fa a fare la statua vivente? Beh, la statua vivente si parte dall'immagine che vuoi rappresentare e ovviamente si va a comporre l'immagine con il tuo corpo, con la tua espressione. Ma pure espiri? Sì, ma ci sono dei momenti dove se le persone vogliono fare la fotografia, devi stare immobile, e gli occhi, tutto deve essere immobile. Poi dopo puoi respirare, oppure quando non se ne accorgono puoi muoverti leggermente, però sempre stando attenti. È certo. Allora, Fabio mi dice che lui fa parte della prima ondata dei Millennial, sei cosiddetti Xenial, e mi sa che ci faccio parte anch'io, lo sai? Sì, ti facevo più giovane. Mi facevi più giovane, grazie. No, 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 ho 43 anni. Lo diciamo, lo diciamo a tutti, telespettatori, ho 43 anni, sono vecchia, assai. Anche perché ho figli grandi, il grande ha 17 anni, quindi, insomma. Però ti sei trovato, quindi diciamo, sei partito appunto con i cartoni animati, l'abbiamo detto, eccetera. Ti sei trovato a fare un pochino tutti i lavori, perché chiaramente anche quando il tuo talento veniva riconosciuto, il tuo merito veniva riconosciuto, non sempre c'era lo stipendio. A un certo punto tu ti sei trovato a fare il manovale e però hai incontrato un signore che si chiama Antonio Capuano. Raccontaci questo incontro, raccontaci chi è. Beh, questo regista napoletano che fa lo scenografo, che insegnava scenografia all'Accademia di Belle Arti, ebbe la fortuna di iscrivermi all'Accademia di Belle Arti e di essere un suo allievo. Quindi attraverso le frequentazioni del suo corso scoprì o riscoprì questa vena attoriale, questa vena creativa e entrai a far parte delle produzioni che lui realizzava all'interno dell'Accademia e poi ho anche fatto le comparse altri lavoretti nei suoi film. Ovviamente sono lavori di tirocinio che poi mi hanno spinto a lavorare su di me. Allora, io non lo so se il fatto di partire da Napoli, che è sempre stata una città di accoglienza, di melting pot, eccetera, ti ha veramente aperto la mente, ma tu tutte le opportunità che ti sono capitate nella vita hai avuto anche l'intuizione e la bravura di coglierle e di tenerle strette e di sfruttarle al massimo. Ti faccio un esempio, tu sei andato al Darlington College of Arts per fare un Erasmus di sei mesi e però poi sei rimasto molto più tempo lì in Inghilterra e a Londra perché hai voluto vivere pienamente quell'esperienza e farla tua. Sei stato tra l'altro anche cultore della materia in semiologia del corpo e anatomia artistica, quindi hai insegnato agli studenti quello che tu avevi appreso, hai condiviso diciamo la tua arte. Il tuo rapporto con gli studenti di oggi e soprattutto con i ragazzi di quella fascia d'età, c'è ancora Umus? Ma sì, perché le persone di quella fascia d'età sono persone motivate e almeno la maggior parte di loro sono rispettose nei confronti di un quasi coetaneo che si prodiga per farli conoscere nuovi aspetti dell'arte e della creatività. Poi ovviamente ci sono persone più motivate, persone che hanno solo bisogno di crediti da scrivere. Ho capito, del pezzo di carta. Ascolta, la cosa che mi ha colpito è che tu mi hai detto che anche nel periodo in cui ho avuto problemi di salute, appunto entravi e uscivi dagli ospedali, in giumento eccetera, la chitarra è sempre stata il mezzo, lo strumento per uscire dalla tristezza, dallo spleen, mi viene da usare un termine anglosassone. Voglio far vedere alcune tue foto, questa è bellissima chiaramente, con le mani già pronte nell'accordo, con le dita già in posizione, perché la chitarra ti ha aiutato? La chitarra? Più delle altre forme di arte. Perché è un mezzo per esprimere una voce, siccome magari trovandomi circondato da persone che non volevo ferire perché si trovavano felici nella loro condizione di vita, nelle loro professioni, magari avevo paura di esprimere il mio malessere e di ferirli. Quindi anziché esprimerlo a voi, voce, avversi. Usando la chitarra potevo e posso esprimere tutto quello che sento, può essere una nota triste, una nota allegra, una nota arrabbiata, quindi la chitarra è anche uno strumento immediato per fare questo rispetto ad un piano. È vero, certo. O la voce, comunque la voce devi coinvolgere, sconvolgere. Forse la chitarra più di altri, un po' come tutti gli strumenti a corda, comunque si presta di più forse all'improvvisazione anche, quindi proprio prenderla al volo e poter dar suogo a quello che uno ha dentro, quando uno chiaramente ha la padronanza degli accordi, ecco, chiaramente. Ascolta, come sei arrivato a essere recensito dal figlio di Salvador Dalì? Sì, innanzitutto nominiamolo, spiega chi è. Sì, José Van Roidali, il figlio artista, creativo e anche storico dell'arte, critico, sì. Ma è stato, siccome mi preoccupavo di promuovere la mia creatività su internet... Intanto che ci racconti voglio far vedere l'opera che è stata recensita, tra l'altro, che è questo meraviglioso cuorone rosso, e sono quanti fiori, mi dicevi? 903 rose finte. 903 rose di carta, tra l'altro. Bellissimo, molto suggestivo. Che cosa ha scritto di quest'opera? Che cosa hanno scritto? Beh, loro mi chiamano, José Van Roidali mi chiama un artista romantico, ma con una grande padronanza tecnica in grado di dar forma a qualsiasi idea, che è stata una recensione che ancora mi fornisce una grande motivazione, anche nel fare musica e nel fare... Immagino. Sì. È stato emozionante leggerla. Che cosa hai provato in quel momento? Ma è stata una forte emozione di un riconoscimento per i miei sforzi o per la mia dedizione. Non è che voglio essere considerato un maestro dalle giovani generazioni, però mi fa piacere che vengano riconosciuti gli sforzi e la dedizione. È chiaro, è giusto che sia così. Ascolta, anche perché di sacrifici ne fatti tanti. Quanto ti sei sentito solo e scoraggiato negli anni? Parecchio. Ci sono stati dei momenti terribili dove... Ovviamente avevo il supporto della mia famiglia, che ancora ho, il supporto morale, altri tipi di supporti, però è comunque un disagio. Lo chiamano la solitudine del maratoneta. Dove gli ultimi metri sono sempre più faticosi, tra l'altro. Prima di arrivare ai traguardi, ai riconoscimenti, alle recensioni positive, purtroppo si passa per tante difficoltà, tanti ostacoli, tanti sacrifici. Però ricordiamo che senza lo studio, senza la dedizione, senza l'applicazione, e senza soprattutto l'attitudine, perché tu comunque avevi dei talenti, hai dei talenti, quindi sei stato anche bravo a riconoscere, individuarli e a saperli poi così tirare fuori. Grazie. Voglio farvi vedere un'altra slide che ci ho portato perché è molto carina, perché due battute mi vengono. Una, che ti chiami Cicala, infatti canti. Non potevo diversare. E due, che questa medusa meravigliosa sembra quasi un autoritratto, no? Sì. Che cos'è? Come è fatto? Che materiale è? Perché non è che si capisce molto. Questa, praticamente lo sfondo che si vede, quell'ovale, è realizzato con un cartone di pizza, pizza d'asporto a Napoli, perché fu uno spettacolo realizzato a Napoli. E il rivestimento di tutto è realizzato con dei giornali, poi dipinti con colori ad olio. E ovviamente i serpenti sono realizzati con delle guaine che si utilizzano per trasportare, per far passare i cavi elettrici all'interno delle case. Guarda, è veramente particolarissimo. Ho sentito la medusa, immagino? Sì. Testa di medusa. Guarda, è veramente stupendo, ma anche a significare che l'arte veramente può scaturire da qualsiasi materiale, da qualsiasi oggetto, anche di uso quotidiano, semplicemente. Voglio far vedere le altre slide, pregherai Riccardo, il regista, di mandarle. Che erano slide invece sue, foto sue personali, se ce li abbiamo. E nell'intanto che lui le cerca voglio chiederti i tuoi sogni, i tuoi progetti, le tue ambizioni. Come ti immagini fra una decina d'anni? Fra una decina d'anni mi immagino con diversi album realizzati, diversi album musicali realizzati. E un film, un paio di film. Ricordiamo che lui è cantautore, quindi lui si scrive tutto da sola, musica, parole. Sì. Magari una maggiore serenità, invece di dover cercare di trovare il tempo per far quadrare gli impegni familiari, gli impegni personali. Magari una maggiore serenità nel poter fare il mio lavoro artistico. E questo te lo auguriamo con tutto il cuore, Fabio, davvero perché aspettiamo che tu possa donarci altro del tuo lavoro, altre tue opere a tutto tondo, davvero. Vogliamo ricordare il tuo sito? Sì, il mio sito è www.fabiocicalaguitarrist.com Anche perché, lo ricordiamo, ci piacerebbe lavorare per hobby, ma purtroppo per hobby non si lavora. Non si mangia. Anche gli artisti devono mangiare, ma soprattutto devono avere un giusto riconoscimento del loro impegno, del loro studio, del loro lavoro. Grazie a Fabio Cicala di essere stato nostro ospite oggi, grazie a tutti voi di averci seguito fin qui. Io vi do appuntamento come sempre, se volete lo sapete, qui a Spazio Scenico su Aracne TV. Grazie a tutti.